C'è attesa per la riapertura al traffico del nuovo viadotto sul Polcevera, un ponte è un segno di pace, ha detto l'architetto Piano, toccante e sobria, la cerimonia di inaugurazione. Una equipe medica per ogni asla affiancata alle scuole per supportare il rientro dei ragazzi in aula è uno dei punti del piano territoriale per il rafforzamento della sanità ligure in caso di ripresa della pandemia. Grandine e vento forte hanno messo in ginocchio il comparto agricolo, ingenti danni alle coltivazioni ortofrutticole, olivicole e per la viticoltura si va verso la richiesta dello stato di calamità. I comuni alle prese con la nuova IMU, sostanzialmente invariate le aliquote rispetto al 2019, previsto un regime morbido per le sanzioni in ragione della pandemia, a Sestri Levante previste alcune riduzioni. Prima serata per il Festival della Parola Summer Edition, a Chiavari stasera a Pacifico con Massimo Cotto, altri appuntamenti l'11 e il 28 di agosto. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare del nuovo ponte Genova-San Giorgio, all'inaugurazione del nuovo viadotto con la cerimonia che si è svolta nella giornata di ieri. Intanto c'è attesa per la riapertura del collegamento. In particolar modo, lo vedete dalle immagini, sono ancora in corso gli ultimi lavori di sistemazione del ponte. Potrebbe essere riaperto infatti in serata. Si sono conclusi dunque oggi i lavori di smontaggio delle strutture che erano state allestite per la cerimonia di inaugurazione. Dopodiché è stata preparata la cartellonistica, tutte le luci, i segnali e così anche è stata fatta una verifica del tracciato. Autostrade per l'Italia, proprio pochi minuti fa, ha ripreso dal commissario straordinario per la ricostruzione, nonché sindaco di Genova, Marco Bucci, la gestione della viabilità del viadotto. Dopodiché seguirà l'ultima ispezione da parte di Aspi, in seguito alla quale sarà definito l'orario di apertura al traffico. Proprio in questi istanti sono in corso alcuni lavori di perfezionamento sull'asfalto del nuovo viadotto e questo potrebbe far slittare la riapertura alla serata. Ci vuole l'arcobaleno per riprendere fiato dall'emozione di stare lassù. È una preghiera che non ha bisogno di parole, nemmeno di quelle delle autorità. Non cancella però lo sguardo sul Polcevera, nell'attimo in cui, due anni fa, 43 persone persero la vita. Alessandro Campora, Ceranesi. Bruno Casagrande, Genova. Non c'erano i familiari delle vittime che hanno incontrato Mattarella in prefettura, nonostante una cerimonia sobria. Soltanto una famiglia è salita sul ponte, quella di Henry Diaz, il giovane colombiano di Uscio. I piccoli particolari pesano sempre di più, i piccoli particolari sono sempre più dolorosi e la sua assenza, mancanza è sempre più forte. Il nuovo ponte è semplice ma forte, come Genova. Parola di Renzo Piano, l'architetto che l'ha disegnato e donato alla città. Un vascello in mezzo alla valle, dirà prima di lui il sindaco Bucci. Un cantiere straordinario, ha detto ancora il senatore, il più bello che abbia mai avuto. Costruire è una cosa bellissima, costruire l'opposto di distruggere, costruire ed edificare, costruire un ponte poi. I muri non bisognerebbe costruirli, quelli no, però i ponti bisognerebbe costruirli, farne tante. Vedete, costruire un ponte è un gesto di pace. È lungo l'elenco dei lavoratori che giorno e notte, con pochissime pause, hanno permesso la costruzione del ponte in breve tempo. Devo dire che questo lavoro oggi viene premiato da un'infrastruttura nuova che ci consente comunque di riunire Genova, di riunire la Liguria. E questo deve anche essere un momento in cui la ripartenza dalla nostra regione dal punto di vista infrastrutturale, tanto se ne parla in questi giorni, segni il passo, nel senso che si riparta, si riparta tutti insieme. Il nuovo ponte, ha detto ancora l'Arcivescovo di Genova, Monsignor Tasca, faciliterà le comunicazioni di scambi, umani e commerciali, di cui la nostra terra ha tanto bisogno e aiuterà a coltivare i sogni di bontà di chi farà qui la propria strada attraversando la città. Un pensiero condiviso dal Cardinal Bagnasco, che ha vissuto la tragedia e le conseguenze del crollo del Morandi. Che segno di speranza si apre con il nuovo collegamento, secondo lei, per la città di Genova? Al lavoro, il lavoro, assolutamente il lavoro, perché si favorisce il lavoro da una parte all'altra e bisogna guardare avanti al mare e ai monti. La realizzazione del nuovo ponte in tempi rapidi, meno di due anni, è frutto di un grande slancio unitario da parte di aziende e istituzioni, così forte che non è stato frenato neppure dal Covid. A parlarne è l'amministratore delegato di Fincantieri Infrastructure, che annuncia che stiamo studiando un sistema per consentire la ricostruzione di altri ponti in tempi brevi. Lo ha intervistato Roberto Costa. Quali sono stati, secondo lei, i punti essenziali di questo progetto realizzato? Nessuno ha mai ceduto neanche per un istante. E poi aver messo in piedi varie esperienze industriali e progettuali e gestionali, che però messe insieme hanno dato del loro meglio. Noi abbiamo gestito contemporaneamente sette cantieri, perché il cantiere qui lo abbiamo suddiviso in tre macro aree. L'area di Levante, l'area di Ponenti e un'area centrale che gestiva le campate da 100 metri. Dopodiché avevamo il Vareggio sul Mincio che produceva profusione, Castellammare di Stabbia che produceva, Sestri Ponenti che produceva, in più anche San Giorgio Seigen che abbiamo di fatto monopolizzato e messo a nostra disposizione, perché all'unisono tutte le varie fasi di questo grande Lego da comporre, da costruire, da saldare e da montare avvienisse. Un progetto anche sostenibile? Abbiamo cercato di sviluppare, a parte tutta la sensoristica, in grado di poter dare tranquillità attraverso un'azione importante di monitoraggio a tutta la struttura, di poter anche alimentare le luci attraverso un sistema fotovoltaico, attraverso un sistema di riduzione dei consumi, che tenesse in piedi anche gli aspetti green di questo ponte, voluto da Piano, che fosse un ponte non impattante per la città, che lo rassicurasse e che fosse tranquillizzante. Si può prevenire con questi metodi al di là della burocrazia? Io sto studiando con i miei collaboratori e con il nostro amministratore legato Bono una nuova idea anche di piano di varo e di smantellamento del manufatto esistente, per riuscire a conciliare in tempi velocissimi quelle lavorazioni che ci consentirebbero, per esempio in un giorno e in una notte, di sostituire un viadotto con un altro. Stiamo studiando, però allora quando metteremo insieme un progetto industriale di questo tipo, lo proporremo al governo, perché dovrà essere questo un modello attraverso cui rinnovare almeno 10.000 dei 16.000 viadotti che ANAS occupa. Questo per dare tranquillità all'intero paese. Allora lo ricordo, la riapertura del collegamento è previsto tra la serata di oggi e la mattinata di domattina, potrebbe già avvenire appunto nella serata di oggi o comunque al termine di questi lavori di perfezionalmento al manto stradale del nuovo Genova San Giorgio. Cambiamo tema, ora l'aggiornamento odierno sul coronavirus in Liguria che parla di 5 nuovi contagi a fronte di 1.050 tamponi, 0 decessi, 3 invece i guariti, mentre il numero degli attualmente positivi cresce di 2 unità. Gli ospedalizzati sono 22, uno in più di ieri, nessuno in terapia intensiva. Invariata la situazione in ASLE 4, con due ricoverati a sesto rilevante, in sorveglianza attiva 88 persone. Circo scritto in fase di esaurimento il cluster di Savona, tra i casi di oggi uno è stato rilevato al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova. La regione Liguria intanto ha messo a punto il piano per fronteggiare un'eventuale ripresa in autunno della pandemia. Tra i principali punti si prevede l'istituzione in ogni ASLE di una equip medica che affiancherà le scuole. Il piano sarà discusso domani in giunta regionale. I dettagli nel servizio. Nuove assunzioni, equip mediche che affiancheranno le scuole, potenziamento dei dipartimenti di prevenzione delle ASLE. Sono alcuni dei punti contenuti nel piano territoriale che la regione ha delineato per fronteggiare un'eventuale ripresa della pandemia e che sarà votato domani in giunta. Andiamo con ordine. La Sanità Ligure affiancherà il ritorno in classe degli studenti con una squadra operativa composta da infermiere, assistente sanitario, infermiere pediatrico e tecnico della prevenzione. La squadra lavorerà insieme agli istituti, farà informazione, effettuerà dei sopralluoghi, monitorerà lo stato di salute di ragazzi, docenti e personale. Entro il 15 settembre, spiega l'assessore regionale Viale, saranno assunti 77 operatori sanitari, di cui 7 in ASLE 4, per un totale di 2,5 milioni di euro. La regione prevede poi nuove assunzioni per i dipartimenti di prevenzione, cuore della strategia. Attualmente, spiega Viale, gli operatori in servizio sono 591, a fronte di un fabbisogno complessivo stimato in 921 unità, con una carenza di 330 persone da integrare, con priorità per 33 unità da destinare alle strutture di igiene e sanità pubblica. Nel piano sarà poi valorizzato il ruolo dell'assistente socio-sanitario. Servono 249 infermieri, 75 di questi saranno infermieri di famiglia. Una parte del personale, infatti, sarà dedicato ai medici di medicina generale per l'attività in studio, così da valorizzare i presidi territoriali. Si prevedono poi nuove assunzioni anche per i GSAT, che si occupano di assistenza a casa. Per la ASLE 4 il numero ottimale di tre gruppi, attivi 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Infine, le RSA. Il piano prevede controlli e percorsi di monitoraggio, sia degli anziani, sia delle regole per l'ingresso dei nuovi ospiti. Ad esempio, la previsione della cosiddetta zona buffer di isolamento, prima dell'ingresso definitivo nella struttura, oppure test sierologici a ospiti e personale. Resta intanto obbligatoria la mascherina a lavagna. Il sindaco ha disposto questa mattina la proroga dell'ordinanza relativa all'utilizzo proprio della mascherina, fino al 1 settembre. Sarà dunque necessario indossarla in tutte le aree chiuse, pubbliche e private, o aperte al pubblico e nelle aree di mercato, nelle fiere. Resta l'obbligo, naturalmente, di portarla con sé e indossarla in quelle situazioni in cui non vengono garantite le distanze di sicurezza. Adesso torniamo a parlare del maltempo. Concluso nella notte l'alerta meteo gialla sulla Liguria. Da domani la rimonta dell'alta pressione dovrebbe garantire tempo stabile. I violenti acquazzoni, però, che si sono abbattuti sul territorio, in particolare sul Tiguglio, hanno letteralmente messo in ginocchio il comparto agricolo, già alle prese, con la difficile ripartenza dal lockdown. Sentiamo l'intervista. Frutta, verdura, uliveti, vigneti. Sono ingenti i danni subiti dal comparto agricolo a seguito della perturbazione di inizio agosto. Colpite, a macchia di Leopardo, le province di Genova e La Spezia, vittima di improvvise violenti grandinate, accompagnate da acqua forte e vento sferzato. Nelle Vantenigure, colpiti i comuni di Ne, San Colombano-Certeno, Licogorno e la parte fontanina di Leivi. Il vento, ma anche la grandine, che ha dato grossissimi danni, ha picchiato duro, ha fatto cadere le olive, ha demolito tutti gli orti. Le olive, ho visto proprio con i miei occhi, anche la colina di Santa Giulia, tantissime olive cadute a terra con danni alla produzione. Quindi era un'annata buona, però quest'anno sicuramente su certe realtà sarà un momento di sintesi difficile. Ci sono gli estremi per chiedere lo stato di calamità? Adesso la nostra associazione ha già contattato le aziende, ovviamente anche loro si sono fatte carico di far pervenire fotografie e far pervenire il modulo per poter chiedere lo stato di calamità naturale, sperando che poi ci venga accolto. Gli effetti per l'agricoltura sono davvero devastanti. Nell'estate 2020, già segnata dal lungo periodo di lockdown, si sono registrati in media più di tre violente grandinate che mettono a serio rischio il raccolto finale. La parte centrale della Fontana Buona, Coreglia, Soglio, Diorero e quant'altro, sono già state interessate da una grandinata che aveva distrutto totalmente la produzione. Lì sono cadute tutte le olive, è rimasto in piedi poca roba. Poi come ben sa, il problema della grandine è anche quello che postumo il danno si vede dopo una settimana, dieci giorni, perché i chicchi di grandine colpiscono i frutti e poi i frutti marciscono e cadono a terra. Speriamo che ci sia l'opportunità economica per poter esarcire i nostri produttori, le nostre aziende che oggi si trovano in difficoltà. Siamo passati dal problema di lockdown e ad oggi è sempre in un momento di crisi e difficoltà e questo per noi è un grosso problema. In Comune Ane, in Val Graveglia, sono disponibili moduli per il censimento dei danni derivanti dalle intemperie subiti dalle aziende agricole. Al documento dovranno essere allegate le fotografie attestanti i danni causati dal maltempo e la fotocopia di un documento di identità. Il modulo dovrà essere presentato entro 30 giorni dall'evento calamitoso. Sestri Levante ha approvato il nuovo regolamento IMU, un provvedimento reso necessario dall'entrata in vigore del nuovo regime introdotto dalla legge di bilancio e sono state approvate alcune agevolazioni. Nel territorio le amministrazioni comunali hanno lasciato sostanzialmente invariate le aliquote del 2019 e da più parti sono state cancellate le sanzioni per i pagamenti in ritardo. Ce ne parla Emanuela Castello. I comuni cercano la strada per mettere insieme equilibrio dei conti pubblici, scadenze fiscali e difficoltà legate alla pandemia, il tutto nella cornice della nuova IMU entrata in vigore dal 1 gennaio. Quest'anno i comuni possono ancora differenziare le aliquote dato il regime transitorio del 2020, ma dal 2021 sarà necessario attenersi ad una griglia di aliquote predeterminata dal Dipartimento delle Finanze. In sostanza vengono confermate ovunque le aliquote già in vigore per il 2019 senza particolari eccezioni. Lavagna, comune in dissesto, conferma l'aliquota massima anche perché non sarebbe stato possibile agire in maniera diversa. Conferma delle aliquote anche per gli altri comuni del territorio con un occhio di riguardo a chi ha avuto difficoltà di natura economica in ragione della pandemia. L'amministrazione comunale di Rapallo all'inizio del mese di giugno ha deciso di non applicare sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro il 31 di luglio per la prima rata. Nell'ultimo Consiglio Comunale, Sestri Levante ha approvato la conferma delle aliquote 2019 e delle agevolazioni già in vigore e l'azzeramento dell'aliquota per i fabbricati ad uso strumentale o costruiti e destinati alla vendita. Confermate le aliquote ridotte per la prima casa di lusso, per le abitazioni in affitto a canone concordato, per quelle affittate con contratto registrato o concesse e incomodato a parenti residenti di primo grado e per gli immobili in affitto ad uso commerciale che abbiano aderito al patto d'area. Il Consiglio ha inoltre stabilito la riduzione dell'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo Catastale D che riguarderà 360 edifici destinatari della decisione presenti sul territorio, esenti dall'applicazione IMU i terreni agricoli. Entro il 30 di settembre non verranno applicate sanzioni ed interessi sulla prima rata di acconto. Il Consiglio Comunale di Chiavari è stato convocato per venerdì alle 18.00. Sono sei i punti all'ordine del giorno e cinque tra mozioni e interpellanze. Sarà possibile seguire i lavori del Consiglio in diretta streaming collegandosi con l'apposito link sul sito del Comune di Chiavari. Più pagamenti elettronici a Seste e Levante dopo le novità in materia di sosta e il primo bilancio tracciato da Mediaterraneo Servizi. Dai dati spiega l'amministratore unico della partecipata, Marcello Massucco, si nota una percentuale molto alta di transazioni elettroniche al parcometro che, uniti alle app presenti, si attestano sopra il 42%. Dalla ripresa del pagamento della sosta ad inizio giugno è stato riscontrato anche un ampio utilizzo del parcheggio gratuito di Bad & Powell, così come dei parcheggi di cintura alla tariffa agevolata prevista di 7 euro al giorno. Piazza Aldomoro, dove vige la tariffa agevolata per i residenti, è divenuto un parcheggio di rotazione veloce, con oltre 15.000 soste registrate in due mesi. Anche la dinamica degli incassi, conclude Massucco, nonostante l'emergenza Covid, si mantiene sostenuta e in buon recupero dopo il lockdown primaverile. Poste Italiane ha completato l'abbattimento delle barriere architettoniche davanti all'ufficio di Borzonasca. Il locale ora è accessibile a tutte le persone in carrozzina o con problemi motori, vedete l'immagine. Il lavoro rientra nel programma di impegni per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Le poste di Borzonasca sono aperte da lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45. Cambiamo argomento, torniamo a parlare del nuovo percorso ciclabile disegnato a Chiavari lato mare, che è un buon punto di partenza. Lo dice Lega Ambiente Cantiere Verde, che mette in luce però alcuni aspetti da migliorare per una vera mobilità sostenibile, capace anche di garantire la sicurezza ai tanti amanti delle due ruote. In particolar modo si chiede una maggiore informazione, una maggiore sensibilizzazione delle persone, l'ottimizzazione della rete e una mobilità privata più sicura per tutti. Abbiamo intervistato il presidente del circolo. Fa discutere la nuova pista ciclabile realizzata a Chiavari lato mare. Voi che cosa ne pensate? Sì, noi supportiamo la pista ciclabile e rivediamo che è migliorabile. Abbiamo sentito l'ipotesi di tracciare il percorso sull'altro lato della strada, ma sappiamo che lì esistono dei vincoli. Per cui l'unica soluzione, e in questo senso la migliore, era proprio il tracciato che poi è stato realmente realizzato. Quali sono le lacune nel piano della mobilità sostenibile della città, secondo lei? Un punto per noi negativo è quello che per il momento si tratta di spezzoni, di tranche, che non sono collegate in maniera fluida tra di loro. Però è un buon punto di partenza e sicuramente migliorabile. Ci sono altre zone a Chiavari da mettere in sicurezza? Viale Millo, che è il ciclista urbano, che non è a vezzo della ciclabilità, fa fatica proprio a orientarsi, a capire proprio che esiste una via ciclabile proprio in quell'area. E poi la zona, diciamo che poi termina, è la rete urbana, che collega il centro urbano e che poi termina sull'altra sponda della città. Anche lì abbiamo lo scenario di Corso Garibaldi che naturalmente potrebbe poi sfociare con un collegamento sia con l'Entella, con il lungofimo dell'Entella, ma anche più con Lavagna. Quali sono le proposte per una maggiore sicurezza dei ciclisti in città? Una proposta che noi facciamo è quella di istituire, anzi di ampliare le zone 30 già esistenti in modo tale che gli utenti stradali, ci rivolgiamo a questo senso a tutti gli utenti stradali con particolare attenzione a quelli più deboli, quindi pedoni e ciclisti in questo senso abbiano l'opportunità e la possibilità di muoversi liberamente in sicurezza. Siamo adesso alla cultura, agli spettacoli rinviati al 2021 a causa della pandemia. Il Festival della Parola, nella sua versione estiva, debutta questa sera in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari con il cantautore Pacifico intervistato dallo speaker di Virgin Radio Massimo Cotto. I prossimi incontri saranno l'11 e il 28 di agosto. Le interviste di Emanuela Castello. Avevamo promesso ai nostri sostenitori, al nostro pubblico che saremo tornati e stasera torneremo con tre appuntamenti. Stasera partiamo con Pacifico, uno dei cantautori più apprezzati, un autore che tutti conoscono perché ha scritto canzoni meravigliose. Per fare un esempio, sei nell'anima della Nannini che tutti conosciamo. Organizzare eventi nel mezzo di una pandemia, quali difficoltà ma anche quale orgoglio? Allora, le difficoltà sono molte e le responsabilità sono davvero pressanti, per cui è anche condivisibile chi sceglie di non fare eventi. Però credo che in questo momento sia importante dare un segnale che arrivi da parte del settore più colpito. La cultura in generale comunque fa parte della vita dell'uomo e spesso la migliora. Per cui noi siamo qui stasera anche per dare testimonianza di questa cosa. Una chicca, un'anticipazione. Cosa potranno gustare i chiavaresi questa sera? Guarda, anticipazione vera, nel senso che dovrebbe essere una nostra paresa, ma faremo cantare il pubblico. Faremo cantare il pubblico anche perché ho scoperto che Gino, cioè che Pacifico, è stato un grandissimo cantante da spiaggia. Sapeva tutte le canzoni dei cantatori, ma le sapeva suonare, ma non le sapeva cantare. Quindi le faceva cantare agli altri. Proveremo a fare lo stesso esperimento questa sera, per cui sarà una serata, spero, abbastanza profonda, ma anche di grande divertimento. Ecco, insomma, una serata di qualità, ma godibile, insomma, che porterà anche una nota di allegria in questa strana estate. È questo, credo che debba essere il senso di tutto. Dobbiamo unirci, pensare che non è soltanto un elenco di persone quello che forma un cartellone, ma anche un elenco di energie. Quindi provando a sprigionare più energia possibile, si cerca di andare avanti e dimenticare quello che è stato e che non è ancora finito. Le restrizioni legate alla pandemia hanno impedito lo svolgimento della sessantesima Sagra del Bagnun di Riva Trigoso. Tuttavia i volontari hanno accolto la proposta del Comune di organizzare una cena di solidarietà e di ringraziamento per tutti coloro che hanno lavorato in prima linea durante i mesi più difficili dell'emergenza. La cena si terrà in collaborazione con la locale Croce Rossa la sera di venerdì 7 agosto sul lungomare di Riva Ponente. Ora l'agenda di Telepace con tutti gli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 5 agosto. Alle 18.30 in piazzetta Belvedere a Camogli Fiabe e Storie Liguri. Narrazione della tradizione ligure di e con Marta Mingucci e Franco Picetti. Appuntamento sotto il castello della Dragonara con il festival di narrazione dedicato ai bambini. Consueto appuntamento con libri in gioco di sera a Lavagna, la rassegna organizzata dalla Ludo Biblioteca per i più piccoli. Dalle 20.30 in piazza della Libertà lettura di Draghi e Pesto. Aperti per ferie è il tema dell'estate 2020 di Sesta Godano. Alle 20.30 sul Sagrato della Pieve di Santa Maria Assunta e San Marco si terrà una serata concertistica a cura del festival paganiniano di carro. Alle 21 a Palazzo Fasce di Sestri Levante proiezione del video documentario sul viaggio nell'isola più sperduta del mondo Tristan da Cugna. A presentarlo Guido Benvenuto Camplani con i giornalisti liguri Guido Lombardi e Anna Laiolo. E infine si apre la settima edizione del Sant'Ingezza a Santa Margherita Ligure. Alle 21.30 all'Anfiteatro Bindi dei Giardini a Mare di Piazza Martiri della Libertà serata con il filo della storia. Ad esibirsi Simona Abbondanza, Dado Moroni, Dino Cerruti e Rodolfo Cervetto con la narrazione di Guido Festinese e le immagini di Maurizio Logiacco. Ultimi giorni per iscriversi all'edizione 2020 di Mi Games, il tour sportivo più grande d'Italia che dal 13 al 16 agosto accoglierà i Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure, atleti da tutto lo stivale, pronti a sfidarsi in match di calcio a 5, basket e beach volley. I vincitori delle competizioni Santa 2020 e le migliori sette squadre di tutte le precedenti edizioni parteciperanno poi dal 21 al 23 agosto al Mi Games Final Legend Edition. Per iscriversi occorre consultare un sito tour.migames.it slash iscriviti, naturalmente tutti i dettagli e la stringa del sito anche sulla nostra pagina teleradiopace.com. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi lascio allo speciale sul nuovo ponte Genova-San Giorgio con le interviste realizzate ieri alla cerimonia ufficiale sul nuovo viadotto e anche nella sala stampa del Porto Antico. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.